Ma non è possibile! Ma non è possibile! Una sconfitta inaccettabile! Una sconfitta inaccettabile! 3 a 0! No! 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 Motta out! Motta out! Motta out! Prendiamo Samontana! Prendiamo Samontana e siamo a posto! Dai! Motta out! Subito! Dai! Prendiamo Samontana e siamo a posto! Adesso metto un geato e a posto di Motta, doiamo Samontana! Prendiamo Samontana e siamo a posto! Bella a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video! Allora! Dai ragazzi! Dai! Dai! Andiamo subito! Andiamo subito a setenziare! Setenziare? Tiago Motta per una sconfitta inutile! Una partita! No! Dai! Dai! E stiamo qui a a pesare i pelati! A pesare i pelati! O a pelare i pelati! Dai! 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 Senza niente contro i pelati! Dai! Noi ragazzi! Ma si! Si vedeva! Si vedeva! Si vedeva! A parte che il... Come si? Cos'è? 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 la partita contro il Noninberga, squadra tedesca, va bene? Però, ragazzi, erano già, diciamo, due mesi, un mese si allenavano e noi una settimana, una settimana di allenamento. Ma cosa volete? Cosa volete? È normale? Abbiamo fatto anche tanto? Hanno fatto anche tanto? Loro, non noi! Loro hanno fatto anche tanto? Dai! Dai! Bella prestazione! Mi è piaciuta! Ragazzi! Ma volete mettere Tiago Motta con Allegri? Vai! Volete mettere Tiago Motta con Allegri? Avete visto? Avete visto gli scambi veloci? Anche verticalizzazioni, scambi lunghi e agganci, agganci di palla, di palleggio, di... Cioè, almeno stoppavano la palla. Cioè, ragazzi, avete visto anche Weha? Cioè, che scartava l'uomo così? Così? E correva? Dai! Dai! Dopo, c'erano tanti giovani, c'erano tanti giovani come... Come Savona, Dailò? Eh sì! Eh, cosa volete dire? Dai! Sono giocatori giovani, sono giocatori giovani che hanno provato, che Motta ha provato a mettere in campo E hanno fatto il loro dovere È un amichevole? Non importa Allegri... Eh, c'è Allegri... Allegri... No, no, no... Gatti! 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 E con Allegri! Posto! E là, ho detto tutto! Beh, a parte A parte che Un errore difensivo Un errore difensivo Non è Da dire tanto imperdonabile Però una distrazione Difensiva Quello sì Quello sì perché Nonimberga Ha corso Ha corso Ha dimostrato di Di non Di non perdere Lo Lo stimolo di gioco Ha fatto La La sua partita Però Dai! Dai! Abbiamo visto una Juventus Determinata Con lanci lunghi Lanci Lanci Nelle fasce Ottimo Ottimo Aggancio Di Vabbè Passaggi Passaggi che andavano A tre tocchi A tre tocchi Andavano in porta E finalmente Quando passavano la palla La passavano Dritta La passavano Bassa Non lanci lunghi Che lasciamo perdere gatti Quello è un altro discorso Quello là Ha ancora La mentalità Ancora La mentalità Di Allegri Vabbè De Gregorio Bene Vabbè Ragazzi E tu Sono tutti Sono tutti Giocatori nuovi Che devono Inserirsi Non mi dispiace De Gregorio Non mi dispiace Non l'ho mai visto Però Ragazzi Anche Ripeto Dai Lo Sukulov Che non lo so Wea L'abbiamo detto Turam Bella partita Di Turam Luca Pelli Assumo perdere Cambiaso Assumo perdere Ragazzi Sono tutti Sono tutti Diciamo Decisioni Decisioni che deve prendere Motta Per far sì Che Che facciano Il Una squadra Una squadra Con Giocatori Pronti E Motta Sta Sta decidendo Quale andare A A A cambiare Il 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 Suo Tipo Di gioco Ragazzi C'è Tanto C'è Tanto Da lavorare Però Abbiamo visto Già Uno Scambio Ripentino Di Di Giocate Con Palla Bassa Con Profondità E Sempre Lasciamo perdere Vlauric Perché Sbagliare Un rigore Lui Non sa Battere I rigori Punto E questo Si sa L'abbiamo Già L'abbiamo Già Visto Per il resto Ragazzi Dopo L'1 A 0 Disattenzione Difensiva Il 2 A 0 Il 3 A 0 Era Inevitabile Perché La Juventus Con Tiago Motta Sta Facendo Un nuovo Carico Di Lavoro Un nuovo Stimolo Di Gioco Una Veloci Una Una Velocizzazione Velocizzazione Di Gioco Sentite che termini Siamo a perdere Velocità Di Gioco Scambi Scambi Veloci Con La Palla A lui Interessa Solo Quello Nel senso Nel senso Tra virgolette Dopo Sta Dopo Sta Modificando Un pochettino Anche L'assetto Tattico Anche se Al centro Campo Ci siamo Con Turam Lucatelli Vabbè Lucatelli Lucatelli È Un I Anzi È Più No Che Un Si Però Dai Il resto Ragazzi Mi è piaciuto Un altro Giocatore Che non mi ricordo Che è entrato Nel secondo tempo Che è entrato Nel secondo tempo Bene Quello che Quello che Tutti Ha Visto Che Tutti hanno Visto Che Sa Stare Sul Sul Pezzo Sa Difendere Che non mi ricordo Il giocatore Va bene Non importa Qui non c'è neanche Scritto Lo sto leggendo Per ricordarmi Non mi ricordo Lasciando Lasciando Perdere Anche i miletti Lasciando Perdere Anche i miletti Comunque Ragazzi Questo è La Juventus Sta In Sta Interprendere Sta In Sta Per Interprendere Una Nuova Stagione Una Nuova Stagione Diversa Determinante E Diversa E Tanto E Tanto Diversa Punto Cioè Non c'è tanto Da Dire Ragazzi Questo è Tiago Mota Ha fatto il suo Ha fatto Quello che poteva Però La strada La strada è lunga Ragazzi La strada è lunga È perentuosa Bene E niente ragazzi A posto Ragazzi noi ci sentiamo A posto Tra zero Che non Guardiamo La sconfitta Perché Non serve È inutile Ma noi Cerchiamo la prestazione E la prestazione C'è C'è la prestazione C'è la velocità C'è la voglia Di Di Cambiare I giocatori Penso Penso Che sono contenti E siamo a posto Così Dopo Tiriamo Le conclusioni Più avanti Quello è E Bene ragazzi Dai Cosa Cosa vogliamo dire Mettete Mettete mi piace Iscrivetevi al canale E condividete E siamo a posto Bene Ciao ragazzi Ci sentiamo alla prossima Va bene Bene Sempre E finalmente Vediamo Speriamo Forza Juve Ciao ragazzi